e chi gli do da mangiare? I croccantini la sera siamo andati a letto, gli do l'osso ma poi io gli ho le mani affettoso per dire gli è meglio di un pitbull io mi sento più sicura per dire c'è chi ha il pitbull, c'è chi ha il rotto mare io ho appeso il leone, fu prima oh non ti fa nulla, oh no, su 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 non ti fa nulla, non ti fa nulla, l'epicino, non ti fa nulla ecco se si può mandare la pubblicità, la regina e vuoi giocare, vuoi giocare, non ti fa nulla, tranquilla, vuoi giocare vuoi giocare, vuoi giocare, vieni qui, su, non ti fa nulla, tranquilla ohioioioi, vieni qui dalla mamma no ma tanto non ti fa nulla, la fa peggioare hai aperto, non la facciamo tanto lunga allora, andiamo via, prendiamola su e ridere, anche io che risate, guarda, sei divertita, andiamo, su, vieni in collo, vieni in collo, e fa peggioare, è piccina e pensare che gliel'ho detto io di portare il leone, almeno si faccia più odio in sé sono più sensuali? è così, è più sensuali, è che dipende anche del clima, dipende anche della sua condizione ormonale, che cambia in varia di umidità, vai Burga no, 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 tranquilla, 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 tranquilla non mueva, non muèva, non muèva, non muèva, non muèva, non muèva, non muèva, tranquilla, tranquilla, tranquilla tranquilla, tranquilla cola, tiene il می ertre, che sento fadda phalt, vai omega Le gustan los niños Porque todo lo que tiene